Le vacanze natalizie sono ormai agli sgoccioli e per circa 168.000 studenti abruzzesi il 10 gennaio sarà tempo di tornare sui banchi di scuola. Ma l'ondata di Omicron potrebbe pesare come una spada di Damocle proprio sulla ripresa delle lezioni in presenza. A preoccupare è il numero elevato di non vaccinati. Nella fascia 5-11 anni su circa 76.000 bambini, appena 5.200 hanno ricevuto la dose anti-covid. Le regioni hanno discusso ieri e presentato al governo una bozza di protocollo per il tracciamento dei contagi in classe. Basta un contagio per la quarantena alle materne, ne servono due alle elementari e tre per gli studenti dai 12 anni in su. Questa differenza è dovuta proprio alla differente copertura vaccinale e all'uso delle mascherine. Per i bambini delle scuole dell'infanzia, 3-6 anni, dove non è prevista alcuna copertura vaccinale né è possibile applicare i dispositivi di protezione, le regole per la quarantena in caso di presenza di un positivo nella classe e sezione restano rigide. La scuola deve comunicare la presenza di un contagiato tra i bambini o tra il personale alla ASL che formalmente invierà il provvedimento di quarantena alle famiglie o la stessa scuola. La quarantena previste di 7 giorni con tampone molecolario antigenico per il rientro in presenza. Per le scuole elementari e la prima media, 6-11 anni, si prevede che alla scoperta di un primo caso la classe resta in presenza in autosorveglianza con la raccomandazione di non frequentare altre attività pomeridiane prima di aver eseguito un test anche antigenico. Al secondo caso, entro 10 giorni, nella stessa classe scatta la quarantena per tutti i compagni, 10 giorni in casa, in dad. Al tavolo di confronto le regioni hanno raccomandato anche di mantenere rigido il controllo sulle menze scolastiche, luogo in cui i bambini devono togliere la mascherina. Meno rigido il protocollo per gli studenti dai 12 ai 19 anni. La misura è giustificata dal fatto che quasi l'80% degli studenti di questa fascia e vaccinato sta concludendo il ciclo vaccinale. Fino a due casi in una classe si resta a scuola in presenza in autosorveglianza. Alla comparsa di un terzo caso, entro 10 giorni dal primo, scatta la quarantena di 7 giorni con test antigenico molecolare tra il quinto e il settimo per rientrare. Il rientro in presenza avverrà comunque dietro l'uso delle mascherine FFP2. Intanto i sindacati di categoria della nostra regione mandano un appello unitario al governo nel quale si chiedono due o tre settimane di lezioni didattiche a distanza prima di tornare in presenza. Dal 7 gennaio comunque tanti sindaci hanno deciso di avviare uno screening su tutta la popolazione scolastica così da poter avere una situazione più chiara in vista del ritorno sui banchi di scuola.